E' giallo sulla morte di una donna di 43 anni, Silvana Tartamella, palermitana, è stata trovata senza vita sugli scogli davanti a un cantiere per il rimessaggio nautico a Capogallo, promontorio che chiude il golfo di Mondello a Palermo. Secondo il medico legale, sul corpo non ci sarebbero segni evidenti di violenza, cosa che farebbe pensare a un suicidio. La famiglia è stata avvertita, Silvana Tartamella, che viveva nel quartiere di Cruillas, indossava una canottiera e un paio di pantaloni poco distante, sono stati trovati altri vestiti. Il corpo si trovava sugli scogli da qualche ora.